Un progetto che unisce i territori di Assisi e Gualdo, ma non solo. È quello incentrato su Matteo D'Agualdo, ideato dall'autore gualdese Matteo Bebi e raccontato anche nel saggio Mactheus Pinsit sulle orme di Matteo D'Agualdo, presentato sabato 22 ottobre al Museo Diocesano e cripta di San Rufino di Assisi. L'autore è già impegnato a lavorare sulla figura di Matteo D'Agualdo attraverso il suo precedente racconto di luce e d'ombra Matteo D'Agualdo, l'uomo dietro il genio, ha da pochi mesi ideato un progetto intermuseale che coinvolgerà tutti i luoghi toccati dall'artista quattrocentesco, nonché il territorio di Assisi e quindi il trittico del Museo Assisano, da poco restaurato con il sostegno della Fondazione Perugia. L'intento ultimo, infatti, non è solo quello della riscoperta storica, della fruizione didattica e della potenzialità turistica, ma anche quello di una più forte riscoperta del legame umano che attrae le città del cuore dell'Italia l'un l'altra da sempre e per sempre. Il volume Matteo Spinsit racconta i luoghi dell'artista con tanto di mappe, le opere, la vita e i personaggi più o meno noti che si avvicendano nell'Umbria a cavallo tra quattrocento e cinquecento, ma anche i risultati di nuove ricerche e scoperte tutte inedite. Il libro, pur essendo un lavoro saggistico, si sviluppa talvolta come fosse un racconto, fagocitando il lettore nelle trame oscure di quei tempi lontani, ma anche nelle spire delle pennellate dell'artista.